Scusa alla mia società e alla federazione e anche al allenatore Claudio perché questo qua diciamo che è un po' fuori programma e io penso che certe sceglie bisogna prenderle da sola e io ho un paio di giorni che penso a questa cosa, di là degli europei, della qualificazione europei, che sarebbe stato magari una bella compagione di carriera, però io spero di aver dato qualcosa a questo sport, magari mi ha scritto, parli di una storia e voglio ringraziare tutti quanti perché negli ultimi 27 anni siete stati dunque là, la mia famiglia. Ripeto, spero di aver insegnato molto ai giovani, al futuro, ai presenti che c'è qua, ti ringrazio i miei compagni per l'allegamento perché se ho motivato a notare sono in età di 35 anni anche perché molti ragazzi di 16-18 anni facevano capitano, smettere capitano di smettere. Però ecco, voglio dirvi che in questo momento della mia vita sono stranamente ma sono felice e quindi voglio smettere di notare in un momento in cui sono felice con me stesso e quindi oggi do addio al mondo del nuovo. Grazie. Buon capitano mio, buon capitano! Filippo Pagliini, grazie! Comunque la tua consiglia sarà sempre la prima parte.